napoli dello zurigo onolulu il ritorno prima li abbiamo fatti verdi 1 per 0 poi li abbiamo menati per onas 2 per 0 solo che armi improprie trovate nei pullman dei zurichiani alcuni tifosi napoletani che aggrediscono e derubano dei zurichiani col calcio marcio e con la gente ancora più marcia del calcio marcio avrida a me ma bene ci vediamo per cose più meritevoli staveti bene